Assessore, possiamo dire che la pioggia di questi ultimi giorni non ha inciso sulla bella stagione estiva? Ma direi di no, una stagione veramente bella e intensa, tra l'altro partita molto presto con una serie di progetti che abbiamo attivato insieme alla società sportiva e che hanno anticipato la stagione. Insomma, in questo progetto che abbiamo attivato già da diverso tempo col piano strategico, abbiamo detto che noi abbiamo necessità di destagionalizzare, quindi lavorare prima con le società sportive e ancora oggi pensare che fino a oltre metà settembre la città sarà bella piena con altri progetti culturali è sicuramente per noi importante, quindi un progetto che sta prendendo forma. E nel corso della stagione veramente abbiamo pianificato bene con tutte le associazioni culturali e le realtà molto dinamiche del nostro settore, abbiamo pianificato benissimo la stagione, quindi una stagione che è apparsa dinamica, che ha dato vitalità alle nostre caratteristiche principali, culturali della città di Fano, quindi ha lanciato anche dei bei messaggi, ha fatto conoscere in Italia la nostra città proprio per le sue piene caratteristiche. Quindi ringraziamento l'ho fatto a tutti coloro che hanno lavorato fino in questo momento ma avremo modo negli incontri che faremo prossimamente anche ringraziarli di persona. È necessario però mantenere questa sinergia anche per i mesi invernali? Assolutamente sì, questo è il progetto che abbiamo attivato. Il mese estivo è una stagione balneare quindi è importante per noi lavorare sugli eventi, ma poi abbiamo bisogno di lavorare con il mondo della cultura, abbiamo bisogno di valorizzare la marineria, abbiamo bisogno di valorizzare la gastronomia. Ecco, la nostra città a volte è un po' anarchica, ognuno porta avanti i progetti per conto proprio. Ecco, sempre di più dobbiamo unirci in progetti unici che diano una visione unica di città e quindi sono convinto che lavorando insieme con dei progetti di rete si possa lavorare meglio e far apparire in modo migliore nella nostra città nel mercato turistico. Ecco, Sessore, però preoccupano un po' questi ringari generalizzati? Ma preoccupano tantissimo, preoccupano tantissimo perché nonostante la stagione è andata molto bene, la maggior parte delle attività rischiano di appiattire gli utili e c'è un fatto, come investe un'amministrazione comunale nei vari progetti c'è la necessità di fare investire le attività e le imprese nei progetti stessi. Senza possibilità di investimenti non c'è crescita di una città. Ecco, quindi è necessaria immediatamente una manovra che in questo caso non può che arrivare dal governo centrale che capisca come limitare le speculazioni che in questo momento sono fortissime e cerchi di aiutare le imprese affinché possano continuare a fare investimenti e far crescere i territori. Ecco, proprio sul settore del turismo ci sono dei progetti imminenti? Sul settore del turismo ci sono dei progetti imminenti. Andremo avanti proprio in questi ultimi giorni, presenteremo Fano Gastronomica, che è un progetto di valorizzazione gastronomica della nostra città. dopo aver presentato Fano Marinara, che è il progetto di valorizzazione delle tradizioni marinare. Il prossimo anno lavoreremo sul mondo della cultura cittadina, sul presentare meglio la nostra storia romana, malatestiana, dei percorsi riguardanti l'arte. E quindi abbiamo ancora un lavoro importante da fare. Ecco, intanto ci ritroveremo a ottobre tutti insieme, proprio per fare un punto su questo e per far sì che il cammino sia univoco, sia di tutta la città. mondo noi come amministrazione che tracciamo le strategie, ma anche tutto il mondo della cultura e tutto il mondo delle imprese per dialogare insieme.